guardate qua che spettacolo ciao ragazzi vi voglio presentare un pecorino stagionato una gran riserva che fanno ad amatrice e adesso ve lo faccio vedere andiamo a fare un bel taglio a questo formaggio che è molto stagionato una stagionatura almeno di 24 mesi guardate qua che spettacolo facciamo delle fettine guardate com'è bello e fa venire un'acquolina in bocca amici miei e il tutto secondo me va accompagnato con un bel goccio di miele ragazzi è stato un vero piacere ciao alla prossima